Il canale Battagli resta al demanio. Lo ha deciso il Consiglio regionale approvando all'unanimità il dispositivo che blocca il processo di cessione introdotto con la prima variazione di bilancio del 2018. Il canale, nato in epoca medievale per portare l'acqua nei campi, è stato oggetto di una ricognizione effettuata dai comuni di Montevarchi e San Giovanni, dal Consorzio di Bonifica Alto Valdarno e dal Genio Civile Valdarno Inferiore. Dal sopralluogo è emerso che il corso d'acqua assolve tuttora funzioni rigue, industriali, di scolo e di drenaggio urbano bloccando in questo modo il processo di sdemanializzazione. È una questione della quale mi sono occupato per primo circa un anno fa presentando una interrogazione perché le condizioni del canale Battagli rimangono tuttora condizioni che non possono assolutamente andare bene. I cittadini si lamentano della situazione del canale, il canale che è tra i comuni di Montevarchi e di San Giovanni e Valdarno. Lo scorso anno io presentai un emendamento abrogativo che fu bocciato e oggi ci viene detto che invece rimane del demanio regionale è in gestione ai comuni e i comuni possono avvalersi del consorzio di bonifica. Guarda caso quello che noi dicevamo semplicemente un anno fa. Ecco il tempo è garanto uomo, il tempo ci dà ragione però torno soprattutto a essere concreto perché i cittadini, l'hanno dimostrato anche con le urne ultime, vogliono buoni amministratori e gli amministratori non è che vanno a fare semplicemente le conferenze stampa, risolvono concretamente i problemi.